Sei tu il re dei giudei? Dici tu questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di me? Sono forse io giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti t'hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo combatterebbe, perché io non fossi dato in man dei giudei. Ma dunque sei tu re? Tu lo dici, io sono re. Io sono nato per questo. E per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce. Che cos'è verità? Voi mi avete fatto comparire d'innanzi quest'uomo come sovvertitore del popolo. L'ho in presenza vostra esaminato e non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate. L'ho mandato da Erode. Egli ha deciso che non è stato fatto nulla che sia degno di morte. Io dunque, dopo averlo castigato, lo libererò. Secondo le vostre usanze, in questo periodo dell'anno, un prigioniero verrà liberato. Barabba! Libera Barabba! Barabba! E farò dunque di Gesù, che è detto il Cristo. Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensateci voi. Buon appetito quando la ciò che faccio. Buon appetito! Grazie a tutti.